Siamo alla città di Brescia in compagnia di Nadia Fanchini, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio. Chiediamo subito come stai? Ma diciamo sto benissimo, adesso l'operazione è data molto bene, sono molto contenta e diciamo che anche il dolore non è come quello dell'anno scorso, quindi sono contenta. Ecco, parlavamo prima che uscirai tra qualche giorno rispetto all'ultima volta dove sei rimasta più tempo qui. Sì è vero, l'altra volta è proprio stato un calvario per me con due gambe, è stato veramente difficile o no? E invece adesso dai con una gamba sono già più contenta perché alla fine non sto soffrendo così tanto, diciamo un po' di dolore ma quello è normale perché comunque ho subito un'operazione, però diciamo che sto veramente molto meglio rispetto all'ultima volta. Quale sarà il programma dei prossimi giorni per te? Quindi ci sarà sicuramente riposo e poi comincerai subito la fisioterapia? Beh sicuramente sì, allora praticamente adesso mi metteranno il tutore e dovrò tenere la gamba a 20 gradi con questo tutore per 15 giorni e poi lo userò che sempre otterrò il tutore mobile e poi inizierò appunto con la fisioterapia in palestra, in piscina, così poi aspetto comunque le indicazioni del dottor Stefani che mi ha operato quindi aspetterò le sue indicazioni, mi dirà bene o male come affrontare la fisioterapia e tutto il resto. Ti ha parlato il dottor Stefani dei tempi di recupero e quando potrai tornare sugli sci? Sinceramente non abbiamo avuto ancora tempo per parlarne così, però io credo intorno ai 5 mesi, incrociato di solito si possa riuscire a mettere gli sci, però adesso devo ancora vedere, poi appunto si vedrà poi con il tempo andando avanti come reagisce il ginocchio, come va la fisioterapia e quindi poi si deciderà meglio. Il tuo sorriso e la tua grinta è spesso stata richiamata in questi mondiali dai telecronisti, dagli addetti ai lavori, quanto ti è mancato questo mondiale? A me tantissimo, sicuramente quando mi hanno detto che mi ero rotta di nuovo col crociato non ci credevo, sicuramente ero molto triste, mi è crullato il mondo addosso diciamo, però mi trovo davanti all'ennesima sfida, quindi lo sci per me è tutto, quindi farò di tutto con il cuore, cercherò di battere anche questa grande risalita e veramente spero di farcela. Io ce la metterò tutta, poi tutto quello che viene secondo me sarà comunque successo per me perché già essere ritornata l'anno scorso dopo quel grave infortunio che ho avuto tenuto entrambe le ginocchia, per me è già stata una vincita ritornare sugli sci e quindi questa è una nuova e un'ennesima sfida per me, ma spero di vincerla.